Salve a tutti e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali social di Per Sempre News. Iniziamo con un caso di violenza su minore. Il Tribunale di Sulmona ha condannato per abusi sessuali un 44enne a 12 anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione a svolgere lavori a contatto con minori per un anno, oltre ovviamente alle spese legali e al pagamento del danno da valutare in sede civile. La vittima è una bambina di 9 anni che nel novembre del 2019 è stata fatta scendere in cantina, per dare da mangiare al cane dall'uomo. Pochi minuti diventati un incubo per la piccola. Ad ottobre 2020, i genitori della bambina scoprono l'accaduto, insospettiti dalle reazioni che la figlia aveva ogni volta che vedeva il vicino. La denuncia non scattò subito. Il vicino in ginocchio chiese perdono per quanto era accaduto, senza però mai specificare cosa. I genitori della vittima accettarono l'implorazione, alla condizione che lui non si sarebbe mai più dovuto avvicinare alla piccola. Nell'agosto 2021, però, la violazione dell'accordo portò il padre a scendere armato di bastone e a picchiare il suo vicino, procurandogli lesioni superiori ai venti giorni di prognosi. Quel segreto tra vicini arrivò così in tribunale, con un doppio processo. Uno per lesioni, ancora in corso, e uno per violenza sessuale, che ieri ha visto la sentenza di primo grado. Parliamo ora di un'altra allerta bomba a Parigi. Cinque aeroporti francesi sono stati oggetto oggi di nuovi allarmi bomba. È quanto riferiscono fonti aeroportuali, precisando che i cinque scali coinvolti sono Bordeaux, Basel-Mulaus, Tarbes, Pau e Biarritz. Tutti, tranne quest'ultimo, sono stati evacuati per consentire agli artificieri di effettuare tutti i dovuti accertamenti. La settimana scorsa, circa 70 falsi allarme bomba hanno bloccato il funzionamento degli aeroporti francesi. Secondo il ministro dei trasporti, quasi tutte le allerte sono state lanciate dallo stesso indirizzo mail situato in Svizzera. Chiudiamo il notiziario di oggi parlando del rapper Shiva. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, in carcere, nei confronti del noto rapper milanese, Shiva, per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Indagine nata dopo una sparatoria davanti alla casa discografica di Shiva, l'11 luglio. Quella sera, due giovani rimasero feriti da colpi d'arma da fuoco alle gambe. Il tentato omicidio era avvenuto al culmine del tentativo di aggressione che i due giovani feriti avrebbero messo in atto nei confronti di Shiva e dei suoi amici. Queste erano le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà domani, alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.